Parliamo dei mezzi di trasporto. Vediamo le foto. l'auto il tram l'autobus il camion la bicicletta la motocicletta il treno l'aereo l'elicottero la nave il taxi a piedi Ripetiamo l'auto il tram l'autobus il camion la bicicletta la motocicletta il treno l'aereo l'elicottero la nave il taxi a piedi Diciamo Andare in macchina o con la macchina con il tram con l'autobus con più l'articolo determinativo Esempi all'università all'università vado con l'autobus o vado in autobus La mia amica va a piedi perché vive vicino alla facoltà Mia madre va sempre al lavoro in macchina o con la macchina per la strada Indicazioni stradali attraversare la piazza proseguire dritto tornare indietro incrocio semaforo attraversamento pedonale girare a destra girare a sinistra fermata del tram capolinea traversa all'angolo Ripetiamo attraversare la piazza proseguire dritto tornare indietro incrocio semaforo attraversamento pedonale girare a destra girare a sinistra fermata del tram capolinea traversa all'angolo La situazione numero 1 senta scusi si mi dica senta da dove parte l'autobus numero 26 dalla piazza della Repubblica grazie Le espressioni utili per dire che cosa cerchiamo diciamo senta senti io cerco per chiedere da dove parte un mezzo pubblico diciamo mi può dire da dove parte se vogliamo chiedere se dobbiamo prendere un mezzo pubblico diciamo devo andare con l'autobus Le altre espressioni utili sa dove viale che strada devo fare girare a sinistra a destra proseguire dritto alla fermata del autobus o della ferroviaria Dialogo numero 1 un biglietto per Belgrado prego andata o andata e ritorno andata e ritorno per piacere quant'è? sono 20 euro Dialogo numero 2 a che ora parte il treno? parte alle 9 e 20 da quale marciapiede parte? dal marciapiede numero 15 va bene, grazie, arrivederci al aeroporto buongiorno voglio registrarmi per Londra mi mostri il biglietto e il passaporto per favore eccoli, prego grazie che bagaglio ha? ho una valigia bene, tutto è in ordine buon viaggio ripetiamo le espressioni utili sa dov'è viale vada dritto fine al semaforo giri a destra la seconda traversa a sinistra che strada devo fare? un biglietto per andata 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 e ritorno a che ora parte il treno? da quale marciapiede parte? posso registrarmi qui per? il biglietto il passaporto il bagaglio la valigia la borsa mettere la valigia sulla bilancia l'uscita è sempre dritto sempre dritto in quella direzione non c'è di che buon viaggio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti